Questa patronale è dedicata alla nostra padrona che è Santa Maria da Letto, sono felicissimo che iniziamo con questo concetto dei fori, dei forti fori, dove la mia famosa è di origine è di parteggio, è di santa deparata che è la mia parte di eserfizio e quindi parteggio e quindi questo mi consente di essere equo, perché sto con tutti, perché pure don Mauro il senso di questo concetto è, nel nome stesso di concetto, che ha come tipologia il significato di stare insieme, di organizzarsi per unire insieme, di fare tutti i scorsi per accortare i cuori di unico gli altri e quindi è alla luce di questo significato profondo che noi iniziamo la nostra festa, il desiderio di ogni parrocchio, di ogni comunità parrocchiale è quella di camminare insieme e noi camminiamo insieme cantando come su di Dio a Santa Costanza, perché gli canta e cammina, arriva prima, prega due volte e cammina il doppio perché sente molto meno il peso, il peso della ricorda di Dio. Offerma il Signore, per ammettere di Maria, che appanto è santa veramente questa nostra serata, questo nostro desiderio di condividere tra parrocchi, il medesimo canzoni nostra e e auguro che tutto il tuo Signore è per te. Allora, il Padre, il Signore è per te. Ave Maria, io ringrazio il Signore è per te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetta il frutto del tuo Seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi beneditori. Adesso è il Signore della nostra Santa Costanza. Allora, devo introdurre questa serata presentando il coro di Santa Pernabella. Il coro nasce dalla visita del Papa Giovanni Paolo II nel 1990. Abbiamo cominciato a incontrarsi e abbiamo cominciato anche ad essere più coro, più gruppo per l'animazione della liturgia. Quindi sia la domenica, i tempi forti di Natale, Pasqua, matrimoni, battesimi. Ecco, un gruppo che è nato così come animazione liturgica. Abbiamo preparato ed eseguito un videoconcerto su Giovanni Paolo II. Ha animato la preghiera dei giovani nella Chiesa dei Sant'Agnesi-Navone, a Piazza Navona, e partecipato a concerti con altri cori. La voglia di migliorare ci ha spinto ad ampliare il nostro repertorio con brani più impegnativi che esprimono, oltre la fede, valori di fratellanza e di gioia. L'appartenenza alla Chiesa e nello stesso tempo la passione per la musica ci fanno condividere questo progetto che è vissuto con impegno ed entusiasmo. Adesso il coro comincerà una serie di canti di brani, sono nove brani, e presenteremo ogni singolo brano. Potete trovare sul foglietto il titolo. Noi faremo una breve introduzione. Grazie.